Buongiorno a tutti, sono Marta Maggetti, classe RSX femminile. Chico Belli vi ha già detto tutto sull'attrezzo, io vi posso dire giusto dal punto dell'atleta che cosa posso provare in acqua e le differenze che ci sono con l'attrezzatura dei maschi. Allora, noi a differenza dei maschi abbiamo nella tavola la pinna leggermente più piccola, 60 cm, poi invece nella vela l'albero è di 4,90 m e la vela invece 8,5 m. Questa appunto è la nostra vela, una vela che comunque ormai conosciamo molto bene, ci alleniamo con la classe RSX da tanti anni, almeno 10 anni. Quindi diciamo che ormai la conosciamo molto bene, riusciamo a sfogarci pure con rabbia, riusciamo a sfruttarla bene. A proposito di sfogarci con la vela, noi possiamo pompare con tutti i venti, non abbiamo nessuna regola per non pompare. Abbiamo delle tecniche differenti ovviamente, col vento leggero pompiamo praticamente tutto il tempo per avanzare. Invece con il vento forte facciamo delle pompate più ampie e più esplosive. Noi usiamo questa metratura con tutti i venti, quindi abbiamo bisogno delle regolazioni per modificare la vela in balumina. Usiamo il paranco che serve per cassare il caricabasso. Invece per la bugna usiamo un'altra regolazione un po' più piccola per dare più pancia alla vela. Con il vento leggero di bolina facciamo questo tipo di pompata che è un po' più frequente. Di poppa, sempre col vento leggero, facciamo una remata un po' più ampia chiamata farfalla che fa praticamente disegna degli otto con la penna della vela. Continuate a seguirci, soprattutto quest'ultimo anno che sarà ancora più difficile. Noi siamo sempre qua, ce la mettiamo tutta, continuiamo ad allenarci e tifateci. Grazie. Grazie. Grazie.